Per decine di migliaia di famiglie ci sarà un po' più di respiro grazie ai rimborsi relativi alle annualità 2012-2013 e dall'abbattimento delle bollette per il 2014. L'acqua non è un diritto dei ricchi ma un diritto di tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche. Per accedere al ristoro che si avrà a partire dalle bollette emesse da aprile del 2014, si dovrà presentare in stanza in base alle modalità previste dall'apposito bando pubblico che sarà definito dall'autorità idrica e poi trasmesso a tutti i comuni pugliesi per facilitare la divulgazione delle informazioni tra i cittadini. Nell'intesa si è concordato che abbiano diritto all'agevolazione i cittadini pugliesi che abbiano presentato in stanza per il bonus elettrico e che siano titolari di una fornitura idrica ad uso abitativo attiva, oltre che in regola con i pagamenti con ACUP. Si tratta di centinaia e centinaia di migliaia di individui, di persone, di decine di migliaia di famiglie che oggi possono respirare un po' di più perché noi facciamo un'operazione che ha proprio il significato di immaginare che l'acqua è un diritto e che va esercitato indipendentemente dalle condizioni economiche. Non può essere un diritto dei ricchi, deve essere un diritto di tutti, l'acqua potabile, l'acqua per lavarsi, l'acqua come elemento della vita. Contemporaneamente Acquedotto Pugliese e la Regione Puglia non fanno un passo indietro dal punto di vista degli investimenti sulle opere necessarie per migliorare la rete acquedottistica, ma anzi anche quest'anno implementano le risorse che serviranno ad aprire i cantieri, a migliorare il servizio idrico integrato. Per ottenere il bonus acqua sarà necessario oltre che rientrare nei requisiti stabiliti per il bonus elettrico avere anche un determinato reddito ISEE o trovarsi in situazioni di disagio fisico. In particolare il bonus ammonterà 40,69 euro per il 2012 e 42,72 per il 2013 per le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 7.500 euro. Il bonus aumenterà a 128,47 e 134,89 euro per quelle con reddito inferiore a 20.000 euro e almeno 4 figlie a carico a 61,03 e 64,08 euro per quelle con disagiati fisici. Il sistema di incentivi sarà finanziato con una quota del fondo per i nuovi investimenti pari a 13,4 milioni di euro.